Facciamo un passo indietro, andiamo alla scossa di terremoto dello scorso 6 ottobre. Abbiamo parlato poco dei danni subiti dalle abitazioni private. C'è una serie di palazzine che ha subito danni in Contrada Fogliuta di fronte all'Istituto Branchina di Adano, esattamente il condominio Eden. Danni all'esterno e all'interno delle case. Ne parliamo con uno dei proprietari, Tino Pignataro. Parliamo innanzitutto di quello che si vede all'esterno, dei danni che avete visto all'esterno. Da quello che si può capire, e questo è l'effetto collaterale di una struttura antisismica, perché la nostra è l'unico palazzo nel territorio di Adano costruito con la palificazione, perché abbiamo due falde d'acqua. Per cui la trasmissione sicuramente da una profondità di 15 metri è stata così violenta che ha recato danni, in particolare nei portici, come si vedono magari nelle immagini, e tutte le parti non della struttura, ma tutto quello che è stato messo dopo, tipo i foratini, qualcosa, i stucchi, e all'interno purtroppo abbiamo degli danni, soprattutto nelle pareti interne, soprattutto i primi piani. Questo magari i tecnici ci sapranno dare una risposta, perché io abito al terzo piano, l'oscillazione è stata terribile, forse non ce l'aspettavamo, ma danni da me per esempio non ce ne sono. Io ho avuto tutta la cristalleria, terra, quadri, tutto quello che si possa dire, ma il danno maggiore, proprio gli indoneci, sono riservati al piano terra e ai primi piani, qualcosa anche al secondo piano. Ricordo che ci sono cinque palazzine, qui 30 appartamenti, tutti abitabili, e credetemi, non è facile vivere o convivere con l'ultima scorsa che c'è stata anche recentemente ieri sera. Siamo traumatizzati, veramente. Non ce la facciamo in un certo senso a rassegnarci. Abbiamo visitato un'abitazione al primo piano, ci sono delle lessioni visibili sulle pareti, poi una signora ci ha mostrato il video di quella sera, insomma tutta la cristalleria per terra. Sì, sì, a conferma di ciò che ho anticipato io. Ripeto, speriamo che finisca subito perché è un terrore, ogni sera scendere, lasciare le abitazioni, mettersi in macchina, insomma non so a chi rivolgermi o a rivolgerti noi, speriamo che finisca perché sicuramente è di origine vulcanica, se non prima questa signora Etna riesca a sfulgare magari tutta la sua energia che ha accumulato, possibilmente, come dicono anche dalle NGV, che ha troppo gas all'interno e prima o poi si prospetta una eruzione.